Musica Amici di Tom Misteri, buongiorno. Sono qui con l'ideatore di questa trasmissione, il nostro Matteo Di Viesti e con il grandissimo esperto di ufologia, il grande Maurizio Baiata. Sono felice di presentare questo progetto Top Misteri che oltre ad essere una trasmissione tv sarà un progetto che andrà oltre. Non voglio svelare ora quello che diventerà. Top Misteri nasce dalla passione mia per il mistero. Per me, da giornalista, è il sapere che porta alla conoscenza. Ti interroghi sempre di più, vai sempre più in termini approfonditi rispetto ad una materia di portata vastissima. Qui parliamo della nascita e dell'origine dell'uomo. Guarda, io da qualche settimana sto per voi facendo delle piccole interviste esterne a personaggi che poi vedremo man mano e ho trovato una grossa, oltre che molto scetticismo, in certe persone però ho capito che c'è qualcosa, hanno qualcosa, provano, sentono qualcosa ma hanno quasi paura di bruciarsi a dirlo, hanno quasi paura di esternare questa loro idea e questo secondo me non capisco il perché perché in fondo è un argomento che esiste, un argomento che è di grandissima, grandissima, grandissima natura, vastità e di interesse soprattutto. Le persone hanno il diritto anche ad avere delle risposte e naturalmente abbiamo a che fare con una problematica che purtroppo è nelle mani delle persone sbagliate. in questo paese come in altri paesi e aggiungo una cosa da giornalista, il mondo della comunicazione è altresì nelle mani di persone sbagliate per quanto riguarda questo tipo di tematica ed è una cosa molto grande.